A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera Servizio Re-Phone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone E con Trestor Pavia si è davvero free Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato In Bielorussia un elefante è caduto da alcune pedane durante un'acrobazia Precipitando il suolo e distruggendo il pannello che delimitava l'area spettacolo dal pubblico Che è scappato sotto sciocco ovviamente Torna prepotentemente attuale la polemica relativa all'utilizzo degli animali al circo Tu sei favorevole o contrario all'utilizzo degli animali al circo? Assolutamente contrario, secondo me i circhi dovrebbero essere chiusi Come mai? Ma perché gli animali devono stare liberi, non devono stare in gabbia per divertire delle persone Quindi secondo me dovrebbero essere chiusi Tu pensa che l'ente nazionale dei circhi ha approvato un regolamento che attraverso una serie di regole Permette di preservare il benessere degli animali, questo comunque non ti fa rimanere tranquillo? Ma no, il fatto è che comunque, ce l'ho detto, i circhi devono essere chiusi Se uno vuole divertirsi va a vedere il circo senza gli animali Non lo so, io voglio bene animali, allora perché sono chiusi, non vivono come devono vivere, in area aperta Ogni animale ha i suoi dritti, a me non piace che gli animali sono chiusi, sono in gabbia A me piace tutto come noi viviamo Sporzerebbe mai il suo figlio al circo? Se figlio mi dice, mamma andiamo al circo, io preferisco andare a un parco dove vivono un po' aperti Che andare in circo per vedere tutte queste cose Per esempio lo zoo? Lo zoo sì Nonostante comunque non siano liberi nemmeno lo zoo? Per un circo è un'altra cosa, che sono un po', non so come dire, ma in zoo sono un po' liberi Invece nel circo sono le persone che mi sembra strano, che anche gli animali sono legati Non mi piace, guarda, non mi piace per niente Contrarissima, ogni animale deve stare nel suo habitat Lo vuoi vedere, ti noleggi un qualcosa, vai, organizzi delle vacanze, te le vai a vedere Vorrei vedere se mettessero noi nel circo Cioè, sono animali, soffrono, sentono, amano, stanno male Quindi no, non sono favorevoli Pensi però che l'ente nazionale dei circhi sostiene che gli animali vengono addestrati Facendo leva sulle loro tendenze naturali al gioco Senza l'utilizzo di strumenti che infliggono dolore Questo comunque non la tranquillizza? Assolutamente no, le faccio vedere il mio cane, posso? Anche lui è obbediente, anche lui gioca con me, però lui è libero È libero, non è incatenato, non deve eseguire e fa quello che desidera Non capisco perché Poi sono animali che non sono per questa terra Un elefante sta bene in Africa, non sta bene qui da noi Una foca non sta bene qua Non capisco perché è questo Non capisco, abbiamo, a Genova abbiamo un acquario bellissimo Andate a vederli lì Già ce li abbiamo lì in cattività che fanno il loro meglio Sul mare, cercando di ricostruire l'habitat Ma Dio santo, se vogliamo vedere qualcosa andiamo dove stanno le cose Al porto di portarcele a casa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti